Due minuti di totale amnesia stavano per costare alla Recanatese una vittoria che sembrava in cassaforte. Sarebbe stato francamente delittuoso perdere due punti in questo modo. Al 91esimo invece una mischia in stile regvistico è stata risolta da una zampata di pennacchioni che ha fatto giustizia, rilanciando le quotazioni della squadra giallorossa. Al netto di quei sciagurati 120 secondi, la compagine di Giovanni Pagliari al suo primo successo avrebbe pure giocato in modo giudizioso, ben inteso, margini di miglioramento amplissimi ma rischiando il minimo sindacale forse qualcosa di meno. Invece tutto è stato resettato ed anzi gli increduli abruzzesi a quel punto hanno anche pensato al colpo grosso. Prima della ruggente finale dei leopardiani che potrebbero aver dato davvero la svolta a questa stagione, Giovanni Pagliari nel post-gara. Giovanni Pagliari se non fossero stati per quei due minuti di amnesia difensiva sarebbe stata una buona partita, quasi ottima. Sì, sì, ero molto soddisfatto, adesso sono soddisfatto ma un po' arrabbiato perché non si può riaprire una partita in tre minuti due amnesi e così. Però veniamo da un momento difficile, ragazzi vi capisco, a volte un sasso sembra un masso, come diceva qualcuno. Sono contento per la vittoria, soprattutto per il rascio finale, le ultime dieci minuti, la voglia di vincere e soprattutto chi è entrato all'ira del gol, anche i candidi, chi è entrato ha cominciato a capire quello che voglio dallo spirito, lo spirito del gruppo. Era calcio o era regmi nell'ultima mischia? Non lo so, io ho visto solo la palla dentro, ho provato a fare uno scatto, ho rischiato anche la salute, devo essere sincero, perché una volta a Foligno mi sono spaccato il tendine d'Achille e oggi ho sentito un po' il pace, dico oddio, oddio, ma sono fermato subito perché non è più l'età di fare gli scatti. Comunque una squadra che ci ha sempre creduto, no? Su questa partita. Sì, sì, è normale che io, sono otto giorni che sto con questi ragazzi, ho cercato di ricreare uno spirito, tatticamente ancora a volte non c'è sintonia tra le linee nell'aggressione, siamo un po' bassi, a volte lo facciamo bene, quando abbiamo la palla giochiamo spesso, a volte un po' troppo dietro io voglio invece che la palla vada avanti. Ci sono tante cose, però io li devo ringraziare per come si sono messi a disposizione, con grande serietà, con grande disponibilità, perciò li devo ringraziare per questo. Le stagioni vivono anche di momenti, non può essere questa la svolta, adesso dovete dare continuità, ne avete la possibilità mercoledì e poi domenica? Sì, dobbiamo trovare continuità di gioco, continuità stiamo recuperando dei giocatori, si gioca da tanto tempo questi ragazzi ogni tre giorni, qualcuno è più stanco, devo essere anch'io vedere un attimo, se alternare qualcuno, però sicuramente adesso dobbiamo trovare continuità, per me è la continuità di prestazioni che poi fanno risultati, trovare un'identità ancora più precisa di quella che stiamo vivendo, però questa è una buona squadra, questo è fuori dubbio una buona squadra, attraverso momenti per tanti motivi, momenti brutti, io mi auguro che la mia positività e la mia venuta dia una sua volta a questi ragazzi. La cronaca, gara vibrante sin da subito, Titone appoggia per Senigalliesi che effettua un insidioso tiro dal limite, Mora comunque ci arriva e devia. E ancora Senigalliesi il più pericoloso dei suoi, l'esterno di casa si costruisce un'altra conclusione su Asis di Liguori che finisce fuori di un niente. Al venticinquesimo pulizione di Bove va a vuoto Mora, Donzelli sparacchia fuori ma da posizione irregolare secondo il direttore di gara. Il vantaggio arriva poco dopo il trentaseiesimo, angolo per i giuliesi battuto da Massetti libera la difesa con Senigalliesi e Bove che innescano la ripartenza di Titone che si fa mezzo campo da solo, ignora tutti e vassino in fondo a siglare l'uno a zero. I giochi potrebbero chiudersi ad inizio ripresa, Titone serve Bove, è il quarto, traversone la soterra, anticipa tutti i Liguori che insaccano nonostante il disperato tentativo del portiere. L'area canatese appare in totale controllo, al quarto d'ora punizione di Bove che sfiora l'incrocio dei pali, invece accade l'impensabile, il giovane Antonelli prende di infilata la retroguardia giallorossa e batte De Chirico in uscita. Non passano nemmeno due minuti ed arriva il pari, Forcini sulla sinistra evita il distratto Morazzini, il trentottenne d'Anna è il più lesta da arrivare sulla sfera ed inzaccare. I ragazzi di Pagliari sembrano tramortiti ma passato il momentaccio si riorganizzano per gli assalti conclusivi, cross di sbaffo inzuccata di Candidi, Mora ci arriva. Poi su azione di corner si accende una mischia clamorosa in aria, ci prova Ferrante per due volte, prima viene murato ma sul secondo tentativo c'è la zampata di Pennacchioni, esplode la festa tipo fuori grotta, c'è tantissimo da lavorare ma farlo con tre punti in più in classifica è un'altra cosa, l'analisi nel dopo partita del tecnico del Real Giulianova, Abitetto. Mister, forse a un certo punto avete anche accarezzato l'idea del colpaccio dopo il 2-2 in un determinato momento? No, è un momento in cui eravamo diciamo di slancio, anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire, però ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Reganati ha collezionato anche diversi calci d'angolo e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo. Complessivamente come giudica la prova dei suoi se riusciamo a districarci dagli episodi? No, no, sotto ritmo soprattutto nel primo tempo, sotto ritmo senza dubbio e invece poi nel secondo tempo, anche dopo aver subito la seconda rete, anche con i cambi effettuati, insomma l'intensità di gioco e anche le maggiori verticalizzazioni hanno sortito l'effetto che speravamo tutti. Forse anche moralmente la sua squadra mi sembra un po' giù di corda. E di corda sì, perché poi quando perdi nei minuti finali su un calcio d'angolo, su una partita che hai comunque rimesso in piedi, fa molto male, nell'immediato sì, però al di là della posizione di classifica, al di là del punto perso, noi cercheremo sempre comunque di andare avanti e di cercare di conquistare con tutte le nostre forze una posizione di classifica migliore. Grazie.